C'è un po' di disegno. La manovra è fatta per fare gli ondolieri. E' molto calma. E' un po' di vetrero. Si, si. Io sarei buttare alc forno. Io sarei buttare alc forno a qualcuno è altro. che seria buttare gli affronti. Si ferma adesso. Ora si. Ora si. Ora si. 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 Si.